Assessore Giuseppe Speranza con delega al cimitero, ci sono importanti novità in arrivo, partiranno dei lavori per la costruzione di nuovi loculi in un'altra area del cimitero. Grazie alla sottoscrizione avvenuta la scorsa settimana tra la ditta di Dalgeco e il comune, abbiamo finalmente definito la concessione, naturalmente per 24 anni, alla ditta di Dalgeco per la costruzione in progetto financing di nuovi loculi nell'area nuova che andremo a realizzare nella parte destra del cimitero, nella parte destra del vecchio cimitero. Quanti loculi saranno costruiti? 3.000 ma credo che comunque poi in futuro saranno anche soggette ad ampliamento, almeno questo potrebbero essere le prerogative. Quali sono i tempi previsti? I tempi previsti immagino che dopo il progetto definitivo si procederà all'approvazione del progetto esecutivo, spero nel giro di alcuni mesi, ma la cosa più importante è che in quest'opera è prevista inevitabilmente l'ampliamento della strada a monte del cimitero. Mi riferisco al tratto che da viale generale dalla chiesa porta poi all'ingresso del cimitero, quindi questa è una cosa importantissima che ci tengo a comunicare ai cittadini. Nel contempo mi permetto di fare un appello ai cittadini, è vero che questa iniziativa dei loculi è molto attesa in città, una preghiera di chiederci a me, a noi altri, a chi ha detto ai lavori, solo quando sono iniziati i lavori, di farci delle precise domande, delle precise richieste, perché al momento è superfluo tutto quello che andiamo a dire. Quindi il Comune poi per gli interessati diffonderà un avviso pubblico in modo che i cittadini potranno poi eventualmente partecipare. Perfetto, ti ringrazio di questa puntualizzazione, di questa sottolineatura. Sicuramente la città lo saprà attraverso un manifesto, attraverso dei comunicati, quando siamo pronti per l'assegnazione. Ci saranno i graduatori, ci sarà una commissione che esaminerà gli aventi diritti e non. Sicuramente cercheremo di accontentare un pochettino tutte le aspettative, perché quando parliamo di cimiteria parliamo di un aspetto molto sensibile, parliamo di affetti, parliamo di qualcosa che ognuno di noi ha un ricordo a qualche persona cara da sistemare nella casa eterna.